Abubakar, Leone, rischio, c'è un intervento falloso meritevole di cartellino giallo, il primo della partita, se lo becca. Binarcik, Ghana rischia tutto, la perde effettivamente e allora Binarcik si fa saltare e il Sassuolo passa in vantaggio al minuto 40, orrore di costruzione della Juventus. Sul retro passaggio di Kiel, Binarcik non è sicuro, regala il pallone a Ghana sotto pressione e poi spunta dal nulla vedovati che deposita in rete. Rivediamo ancora, Binarcik per Ghana, Ghana aggredito. Attenzione adesso, sulla sinistra il Sassuolo cerca lo spazio per il cross e sottoporta ancora una volta il raddoppio. Lo firma Vedovati, 2-0 per il Sassuolo. Tre hanno fatto crossare facendo quello che voleva Flavio Russo. E poi Vedovati in mezzo a due centrali della Juve più il portiere tre. Juve non restituisce questo pallone. Kiel, una palla dentro, Krapisto, lotta Krapisto! Arriva il gol della Juventus che riapre la partita perché al minuto 81 Krapisto si venta un gran gol. Di Montero. E adesso ovviamente polemiche in campo. C'è un fallo ai danni di Russo. Il secondo giallo per Florea. Finisce qui la partita del... Lo pesta proprio, dice. Eh sì. Obiettivamente Florea arriva in ritardo e calpestando l'avversario. Il giallo ci sta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.